Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono ad Amsterdam, starò qui per qualche giorno perché vado alla Bitcoin Conference Europe. Andrò a vedere un po' che forno fuma, come si dice dalle mie parti, quindi che cosa stanno succedendo e che cosa sta un po' cambiando nel mondo cripto in seguito a questo super bear market che stiamo subendo comunque da un annetto. I mercati sono comunque fermi in attesa di quella che era la situazione dei dati che domani dovrebbero essere divulgati appunto sul tasso di inflazione, quindi tutto in attesa di questa ormai famosissima data del 13 di ottobre, data in cui verranno divulgati i dati sul tasso di inflazione, ma vi faccio vedere che comunque già alle 14.30 di oggi ci sarà il primo dato un po' importante che è appunto l'IPP, quindi l'indice dei prezzi della produzione, che sarebbe un tasso di inflazione legato appunto ai venditori, cioè quanto i venditori subiscono il rialzo dei prezzi di materie prime, insomma eccetera. E questo indicatore potrebbe essere anche un indicatore importante perché per esempio è previsto intanto in fase di aumento, quindi se dovesse essere negativo anche questo indicatore probabilmente i mercati la prenderanno bene perché magari sarà più basso del previsto, l'importante è che sia basso. Poi alle 15.30 c'è il discorso della Presidente della BCE, della Lagarde, e poi la riunione del FONC, i verbali della riunione del FONC alle 20, quindi già qualcosina un po' oggi si dovrebbe vedere, ma è proprio domani, come ormai penso sappiate tutti quanti, che c'è una sfidza di dati incredibili, tra cui il tasso di inflazione, richieste di sussidi, disoccupazione, scorte di petrolio greggio che impatteranno in maniera notevole proprio sui mercati. I mercati ragazzi che comunque, anche Bitcoin, sono in trading range. In sostanza Bitcoin ha tentato uno scivolone proprio nella giornata di ieri, scivolone che poi è stato recuperato, ma in pratica vedete non ha fatto granché. Allora questo è lo scivolone proprio dell'11 che ha toccato i minimi a 18.853 su prezzi di Bitfinex, però non è andato al di sotto. Ora, concettualmente questo scivolone che ha fatto ieri può essere definito appunto come un'struttura ciclica, vedete, a 20 giorni, quindi da qui potrebbe essere iniziato un nuovo ciclo di natura magari settimanale oppure più corto, 3-4 giorni. Oggettivamente parlando non abbiamo in questo momento una grande informazione da questi tipi di movimenti, perché vi faccio vedere una curiosità. Bitcoin è in pratica, eccolo qui, ci siamo in una super barra ragazzi di congestione veramente da un sacco di tempo. Allora questo è un... anzi vediamo ve lo mostro qui su un time frame settimanale. Allora questi ingressi che vedete, ragazzi, sono gli ingressi by the deep che abbiamo strutturato più di un anno fa quando qualcuno di voi mi aveva chiesto, dice, ma dove sarebbe giusto prendere Bitcoin per un lunghissimo periodo, bla bla bla. Io non faccio by the deep, quindi vi sconsiglio di seguire questi ingressi. L'avevamo semplicemente indicati, però come punto di vista può essere interessante non vedere che poi alla fine eravamo qui in questa zona quando abbiamo fatto questo video, alla fine Bitcoin è anche andato qui. Comunque non fate il by the deep in un mercato bear, aspettate comunque un'inversione di trend prima di operare. Questo non è un consiglio finanziario, ma io vi ricordo che opero così. Allora, e lo consiglio a tutti, soprattutto ai neofiti, perché il by the deep è una pessima strategia, ragazzi, se non gestita con delle logiche estremamente rilevanti. Quindi a volte può funzionare, ma è una scommessa in quel caso, ma non è un'attività di trading in maniera professionale, ma neanche di investimento, diciamo, professionale. Allora, da un punto di vista di struttura di trading range, guardate un po' qui che cavolo sta facendo Bitcoin, scusate il termine, cioè in pratica è imbottigliato in un trading range che va avanti da giugno. Quindi abbiamo luglio, agosto, settembre e ottobre quattro mesi di trading range. Un trading range che ha come struttura massima i 25.000 dollari e un trading range che ha invece come fase di supporto questo livello, ragazzi, i 18.000 dollari. 18.000 che, se persi o in fase di close, quantomeno daily, o comunque per un determinato periodo, cioè se Bitcoin tenterà di fare questa cosa e poi non si ferma, assisteremo a uno scivolone, un classico dampone delle cripto. E questa è un po' la preoccupazione di tantissimi e secondo me è anche un po' il motivo per il quale Bitcoin non si schioda da questo livello, perché c'è molta attesa, molta riflessione. Un'eventuale fase di break di questo livello di supporto lascia riprendere il trend di primario, in questo caso che, come vedete, è al ribasso. Quindi se dovesse breccare ritornerà il trend di primario, andrà a chiudere un'altra gamba, che poi sarebbe la prima, la seconda, quindi la terza gamba ribassista, perché vedete gli swing qui del bear market si sono sviluppati con una gamba ribassista, un'onda di recupero, poi la seconda ribassista, la seconda onda di recupero e manca appunto l'ultima teorica gamba ribassista. È anche vero che i movimenti di bear market potrebbero chiudersi a tre onde, perché a volte lo fanno, ragazzi, quindi è anche possibile che magari i movimenti correttivi siano sviluppati a uno, due e tre onde, questo sia una fase di accumulazione. Però se questo non dovesse essere così, visto questo swing al rialzo, questo potrebbe essere un movimento di bear market che si sviluppa in uno, due, tre, quattro e cinque onde, è l'ultima finale e poi appunto si vedrà. Un break di questo tipo probabilmente spingerà quasi sicuramente i mercati intorno ai 16.000 con una fase, insomma, di possibile crash, questa zona qui, con una fase di possibile crash che potrebbe girarsi anche intorno ai 13.000. Quindi comunque non è una buona cosa, considerando il fatto che Bitcoin è veramente partito da un prezzo molto alto questa volta e quindi sì, insomma, una discesa del genere non è il massimo. Tutto dipendere dai dati di domani. Allora, se i dati di domani saranno molto brutti, la tenuta di questo livello di supporto intorno ai 18.000 potrebbe essere scomoda, ragazzi, e quindi i mercati, insomma, potrebbero soffirne. Altrimenti, se i dati di domani magari saranno migliori delle attese, potremmo tranquillamente assistere a una fase di recupero dei mercati. Io proprio dopo la giornata di domani, dopo i dati, dopo aver visto quello che i mercati faranno, aggiornerò anche un po' quelle che sono tutte le strutture di analisi di natura ciclica. Anche perché qui, come vi dicevo nell'ultimo video, abbiamo ancora una fase di neutralità da un punto di vista ciclico perché non sappiamo se questo minimo del 7 settembre può essere stato il minimo di un ciclo mensile che quindi a questo punto è ribassista perché, ve lo ripeto, ragazzi, avrebbe questa struttura con break di minimo e quindi qui andrebbe a chiudersi in questo modo. Questa è la struttura teoricamente più probabile. oppure se qui, questa è un movimento da lingua di Bayer, quindi una, diciamo, struttura che definisce un ciclo superiore a livello ciclico e da qui è iniziato un nuovo mese. Allora, se qui è iniziato un nuovo mese, magari un po' di tempo c'è. Però questa cosa, ragazzi, ovviamente non è... è tutto definibile dalla tenuta di questo livello di supporto. Quindi a livello tecnico 18.000 devono ottenere. qualora non sia così, qui vedete disegnato il primo punto di arrivo di Bitcoin e niente, poi bisognerà riallacciare un po' le cinture e andare a vedere un po' di capirsi un po' in maniera differente per cercare di capire appunto se il mercato potrà veramente nei mesi successivi raggiungere un livello di bottom accettabile. Vi faccio vedere anche un altro grafico che è quello di S&P 500 dove da un punto di vista di candela settimanale è stata fatta questa candela settimanale veramente brutta, cioè indicante un pattern che ha fatto il superamento dei massimi della settimana precedente ma poi ha ritracciato ampiamente. Per fortuna non ha chiuso sotto il livello della candela del 26 di settembre settimanale sempre perché altrimenti sarebbe stato un disastro, quindi è un pattern di continuazione del trend molto rilevante quindi questa candela è un tentativo di recupero andato a male così si legge da un punto di vista di analisi dei pattern e anche in questo caso vedete l'S&P 500 ragazzi sta appoggiandosi proprio sull'ultimo livello di supporto che sono i 3005. Probabilmente anche questo indicatore, questo indice scusate da domani prenderà una sua direzionalità. Ora ragazzi anche in questo caso vedete il rialzo di SP500 come quello di Nasdaq iniziato proprio nella giornata, nel mese di giugno ha fatto un'app di 18-20 punti percentuali app che ne dà la possibilità a questo indice, a questo future di aver iniziato proprio qui il famoso ciclo annuale quindi averlo reversato in fase di bassista. Vi dico già da subito che la questione del ciclo annuale se è iniziato a giugno o sta per iniziare qui non può essere risolta se non con alcuni dati estremamente difficili insomma che avvengono comunque molto rilevanti e cioè il superamento di questa zona di massimo perché anche qualora il mercato già nei prossimi giorni inizia una fase di recupero nulla vieta che sia il recupero di una struttura ciclica ternaria e quindi di un trimestrale in pratica iniziato in questa zona che poi però continua la fase discendente e quindi si va a configurare magari questa famosa struttura laterale ribassista che io non vi nascondo potrebbe essere una soluzione a tanti mali comunque a prescindere quindi anche qualora dalla giornata di domani dovesse iniziare una fase di up non avremmo mai le condizioni per definire questa struttura ciclica in maniera oggettiva quindi proprio definita al 100% e questo è il grande dilemma di questa fase ciò indica secondo me che nei prossimi mesi i cicli da tradare più che il ciclo annuale che sarà complesso a questo punto nella sua individuazione e dovrebbero essere i cicli inferiori e quindi il trimestrale sicuramente o il mensile anche qui sul mercato cripto la questione si insomma è difficile da sbrogliare vi faccio vedere anche ethereum ethereum ha una struttura un po' anche lui estremamente attendista vedete in questa fase c'è però da dire che sulla struttura dei mensili di ethereum il concetto che in questa zona possa essersi chiuso un ciclo mensile non è valido perché manca un minimo al di sotto di questa fase quindi o questa struttura che stiamo idealmente indicando non è corretta e quindi ethereum da qui inizia una nuova fase ciò significa che ha chiuso qui il ciclo tutta questa struttura rialzista tra le altre cose oppure dovrà fare un nuovo minimo a brevissimo quindi vedete quante situazioni si devono andare a mettere insieme perché proprio questo concettualmente è l'attesa della giornata di domani ragazzi perché qui vedete il ciclo dovrebbe essere da 95 giorni sufficienti assolutamente per una struttura ciclica trimestrale di ethereum che poi da qui potrebbe appunto inizia avere iniziato un nuovo ciclo trimestrale se ethereum da qui inizia un nuovo ciclo trimestrale ragazzi il concetto che su giugno si sia potuto chiudere l'annuale è un po' più chiaro quindi a quel punto dovremmo un po' ragionare se una cripto come ethereum insomma se fa una cosa del genere vi dico quindi se da qua ha fatto scusate sono con la trackpad se da qui ha fatto un ciclo trimestrale da qui ne inizia uno nuovo è molto probabile che qui abbia chiuso un ciclo annuale e questo significa che poi dovremmo andare a portarci la visione ciclica di ethereum anche sugli altri indici è possibile una cosa del genere cioè potrebbe in effetti ethereum essere per la prima volta la coin che ci da una direzionalità rispetto a bitcoin e se fosse così comunque anche gli annuali su bitcoin su nasdaq su sp500 adesso moltissime cripto sarebbero tutti ribassisti quindi un po' ragazzi manteniamo la lente di ingrandimento per la giornata di tormani che dovrebbe schiarire un po' di dubbi dopodiché andiamo a vedere ethereum che cosa combina se parte un nuovo ciclo trimestrale o meno se invece scende a fare un nuovo minimo deve ancora chiudere questa fase ciclica mensile quindi tutto rimandato comunque a domani il livello di supporto da tenere la 18.000 per quanto riguarda bitcoin a livello up è interessante il superamento dei 19.700 ma poi il vero livello è 20.500 nel breve dopodiché ci vuole questa zona qui da superare 22.000-23.000 dollari per bitcoin quindi è un rialzo corposo ragazzi per avere un trend differente al momento fin tanto che questi livelli anche nel breve non vengano rotti siamo in una situazione estremamente critica e bisogna attendere solo il superamento dei 25.000 o dei 18.000 sancisce la fine di questa super congestione di oltre 120 giorni ragazzi una cosa del genere quindi o si brecca questo livello o si brecca questo livello in basso fino ad allora qui siamo ancora in congestione avete visto quanto tempo spendono i mercati in queste fasi di lateralità va bene allora ragazzi per oggi è tutto io scappo alla conferenza la bitcoin conference Amsterdam e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao